Rispettate le previsioni della vigilia. La cosiddetta riunione fra i tre saggi del Partito Democratico Matteo Ricci, Luca Ceriscioli e Giampiero Bellucci e i tre nomi dem spendibili per le elezioni amministrative ha fatto convergere la decisione per la candidatura sindaco di centro-sinistra per la città di Pesaro su Andrea Biancani. Il consigliere regionale la spunta sull'attuale vicesindaco Daniele Vimini e l'ex assessora Sara Mengucci. L'annuncio, arrivato via social da tutti i diretti interessati poco prima della mezzanotte, attende ora la ratifica, pressoché scontata, dell'Assemblea del Partito Democratico e degli alleati di coalizione prevista lunedì sera. Ovviamente questa è una candidatura del Partito Democratico, poi si tratterà anche di condividere, ma sono già comunque iniziati, erano già stati fatti i primi incontri, ma comunque è giusta la condivisione anche con tutti i gruppi, i partiti che sostengono questa coalizione. Ovviamente io sono molto soddisfatto arrivare solo ad essere candidato per il centro-sinistra per diventare sindaco della propria città è sicuramente una bella soddisfazione e sicuramente anche secondo me è frutto di un lavoro fatto in oltre vent'anni di attività dove ho sempre cercato di essere vicino a quelli che sono i problemi dei cittadini, dando la mia disponibilità, essendo presente, occupandomi soprattutto di quelli che sono i problemi reali e concreti delle persone, cercando di trovare le soluzioni, quando le soluzioni non c'erano, cercando di trovare comunque la strada necessaria per individuarla. Una volta espletato il passaggio formale dell'Assemblea, da martedì partirà di fatto la campagna elettorale di Biancani con la presentazione di un programma che eredita onori ed oneri della Capitale della Cultura alla quale aggiungere precise linee di intervento. Il tema legato al sociale, il tema legato alle politiche educative, il tema legato all'ambiente, alla viabilità, al fatto, alla riconnessione più forte magari con i quartieri, cercando di proporre anche progetti che possano riqualificare, anche quei luoghi di aggregazione che nei quartieri ci sono, di cui c'è sempre più bisogno. Campagna elettorale che significherà soprattutto sfida con il centrodestra che ha candidato Marco Lanzi. Mi auguro che sia un duello civile, almeno io caratterialmente non sono una persona conflittuale, una persona che è portata a parlare male degli altri, cercherò di parlare di quello che sono i nostri obiettivi, con massimo rispetto per l'altra parte politica, sapendo che dal giorno dopo, dal 10 giugno, dovremmo comunque lavorare insieme, i rapporti personali sono importanti e quindi per riuscire a ottenere risultati importanti sicuramente più c'è condivisione con tutte le forze politiche, meglio è. Se di duello si potrà parlare con Lanzi, con Vimine e Sara Mengucci è stato piuttosto un pacifico rivaleggiare. Daniele ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro, soprattutto in questi ultimi anni, dove è riuscito insieme al sindaco Ricci a ottenere questo splendido risultato. Le elezioni sono praticamente a metà anno, sarebbe anche sbagliato come di interrompere un percorso che già un assessore ha portato avanti, quindi ritengo che Daniele, qualora dovessimo vincere le elezioni, potrà sicuramente far parte della squadra e continuarsi ad occupare di quello per cui questo bellissimo risultato che la città ha ottenuto. Come Sara Mengucci è sempre stata una persona ben voluta, una persona che ha fatto bene negli ultimi anni, quando ha fatto l'amministratrice, però tutti dobbiamo correre, ognuno sarà candidato e tutti insieme riusciremo a fare un bel risultato. Grazie. Grazie. Grazie.